Il Governo regionale acquisti la casa di Canicattì in cui ha vissuto il giudice beato Rosario Livatino, ucciso per mano mafiosa nel 1990 e istituisca una casa-museo dedicata alla sua memoria. E' questa la proposta di Giovanni Di Caro, deputato regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, che ha presentato una mozione rivolta all'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, affinché si acquisti e si valorizzi la dimora del giovane magistrato siciliano, che Giovanni Paolo II definì martire della giustizia e indirettamente della fede. Il 9 maggio di quest'anno Livatino è stato proclamato beato. Rosario Livatino, ricorda Di Caro, sostenuto e protetto dai genitori, è cresciuto nel cuore di Canicattì, in provincia di Agrigento, nella casa di Via Regina Margherita 166. Visitarla è un'esperienza che lascia il segno perché alimenta la curiosità sulla sua formazione, amplifica il senso del dovere e di giustizia, facendo divenire la dimora luogo e simbolo della cultura, della legalità. L'immobile nel 2015 è stato dichiarato dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento, di interesse storico, artistico, architettonico ed etno-antropologico di particolare importanza e dal 2020 fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, che riunisce le case dove vissero personaggi illustri in ogni campo. A tutti i requisiti, dunque, aggiunge Di Caro, per far parte della rete regionale delle case museo, istituita dalla regione siciliana. Dal 21 settembre del 1990, drammatico giorno in cui il giudice venne barbaramente ucciso, mentre da Canicattì si ricava in tribunale ad Agrigento, l'abitazione è rimasta immutata, custodita dalla famiglia Livatino e successivamente dalla nuova proprietaria. All'interno è ancora possibile ammirare vari libri, codici, riviste e film che hanno accompagnato la crescita del piccolo rosario. Da essi è possibile comprendere come i suoi interessi fossero ispirati ai principi di giustizia e cristianità con un pizzico di sano umorismo. Un patrimonio di gran valore, conclude il deputato, che merita di appartenere alla collettività sotto una gestione pubblica di cui la regione siciliana ha il dovere morale e materiale di farsi carico. Grazie. 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 Grazie.